Il Pescara interrompe la serie di vittorie consecutive pareggiando in casa dell'Ancona Matelica per 1-1 dopo 90 minuti combattuti. Divisione della posta alla fine giusta con il Delfino apparso pugnace e grintoso così come piace ai tifosi. Al Delconero Auteri cambia ancora formazione con gli innesti dall'inizio di Iacobucci e Diambò. A sorpresa il bomber Ferrari parte dalla panchina. I biancorossi di Colavitto si schierano con il 4-3-3 fuori per infortunio l'ex Biancazzurro del Sole. Quasi 3.000 gli spettatori sugli spalti con numerosa rappresentanza pescarese. Avvio veloce delle due squadre al decimo con la punizione di Sereni e palla in area per Delcarro che al volo mette clamorosamente a lato. Gara subito vivace e palpitante. Al sedicesimo tocca a Pescara questa volta a Pompetti dalla distanza impegnare centralmente il portiere Avella. Al ventiduesimo però la squadra di casa la sblocca con il corner di Sereni ed il colpo di testa di Rolfini che svetta in area quasi indisturbato mettendo alle spalle di Iacobucci il pallone dell'1-0. Doccia gelata per il Delfino che cerca però subito di reagire ma al ventiseiesimo Dursi in area marchigiana in corna a lato. La velocità dei padroni di casa non agevola la manovra abruzzese. Alla mezz'ora ci prova anche De Marchi che di testa sugli sviluppi di un corner non inquadra lo specchio della porta. Spostano in avanti il baricentro gli ospiti che trovano il pareggio al trentasiesimo con Pompetti che dei trenta metri trova una diversione di massetti mettendo il pallone alle spalle del portiere di casa. Festa grande nella curva sud dove si trovano i supporter spescaresi ed in campo dove c'è un abbraccio collettivo davanti alla panchina di Euteri. La gara però resta aperta visto che al trentanovesimo è pericolosissimo per i padroni di casa Moretti su cross di Sereni. Nella ripresa si parte come nel primo tempo a buon ritmo con all'undicesimo l'ingresso in campo di Ferrari per De Marchi nel Delfino che sfiora il gol al quattordicesimo con Veroli e con Euteri che poi manda poco dopo in campo Clemenza e Memusciai per Dursi e Rasi. Il Pescara passa al 4-3 con la gara che vede però meno emozioni rispetto alla prima frazione di gioco anche se al ventesimo e Iacobucci a salvare in area su Rolfini. Fioccano le ammonisioni in casa ospite con la squadra di casa pericolosa anche al ventinovesimo con il colpo di testa di Bianconi. Al trentaseiesimo poi i biancazzurri restano in dieci per il doppio giallo di Lianes. Euteri corre così ai ripari mandando in campo frascatore per Rauti. La squadra ospite è costretta a stringere i denti nei minuti finali con i padroni di casa a spingere come prevedibile con maggiore decisione con al trentasettesimo il salvataggio di Iacobucci sul neoentrato Fagioli. Il Pescara però ci crede nonostante tutto e al quarantacinquesimo con Memushai arriva ad un passo dal vantaggio con il pallone calciato dall'albanese che finisce di un soffio a lato. Poi cinque minuti di recupero in cui non accade più nulla. Finisce 1-1. Ora la sosta e poi il mercato ma soprattutto possibili novità societarie con l'interessamento della cordata inglese guidata dal patrone del Leeds e di Eleven Sport Andrea Radrizzani.